In seconda fila l'otto di Rostro PV e il 9 di Re d'Amore. Si avvicina Raia di Poggio che parte piano, di galoppo prima dello stacco Rampabail che praticamente perde la partenza alla chiusura delle ali. Partiti. Lungo i birilli è proprio Ratatouille Lanz che assume il comando delle operazioni con all'esterno Romana Griff che è a tabellone nel frattempo Rostro PV con il lancio in 13,7 ed è Ratatouille Lanz che si è sistemata al comando. Ramana Griff lungo la corda, 28,7 il primo quarto. Dietro Ramana troviamo Re d'Amore con all'esterno Rottweiler SM che avanza gradatamente al passaggio davanti alle tribune sempre a comandare il favorito di Ratatouille Lanz. Ripeto, numero 8, squalificato. I 600 in 46,6, 17,9 la frazione con sempre il favorito di Ratatouille. Lungo i brilli Ramana Griff all'esterno troviamo sempre Rottweiler SM che si trascina a sua volta Rocky FP. Il passaggio a metà corsa in questo istante in 1,3 e 5, abbastanza tranquillo. Si viaggia da 1,19 e mezzo scarsi con Ratatouille che ora inizia ad accelerare il chilometro rifinito dal leader in 1,18 e 5, 15 di frazione. All'esterno di Ratatouille è sempre Rottweiler lungo i birilli. Nel frattempo è sempre Ramana Griff a precedere il 9 di Redamore. I tre quarti in 1,32 e 5 da parte del leader 14. La frazione scappa via Ratatouille. Avanza molto bene Redamore all'esterno in terza ruota. Va da girare Rottweiler SM e cerca di andare a fare l'arrivo con Ratatouille che scappa via lungo i birilli. Ci prova ora Ramana Griff che cerca di andarlo a prendere. ma Ratatouille per il momento si rende intangibile, imprendibile. Va a vincere con il più classico dei cost to cost sulla stessa Ramana Griff e sul numero 9 di Redamore. Terminati per l'appunto nell'ordine. 2,1 e 8 il tempo totale da parte del vincitore. 1,16 e 1 il ragguaglio al chilometro. L'ultimo quarto in 29,3 e 15,4. l'addirittura di arrivo facile facile il compitino per il favorito di Ratatouille Lanz. Glauco Cicognani ha chiuso a 1,84 al tot nazionale. Al secondo posto si piazza un ottimo Ramana Griff che corre molto molto bene sicuramente in crescendo di condizione a precedere come avevamo un attimino anche preannunciato Redamore che avevamo visto correre molto molto bene qui sulla pista per cui farà senz'altro lievitare la quota di questa trio il numero 9 di Redamore.